Tutto sembra andare bene, fino a quando le cose non vanno a rotoli. Siate sinceri, quante volte vi è capitato? Beh, queste clip sono la prova che almeno non siete i soli sfortunati sulla Terra. Per il suo compleanno ha ricevuto una commozione cerebrale. Beh, almeno con lei hanno centrato la torta. Mentre il prete faceva la messa di Natale, dietro di lui è successo il disastro. Grazie. 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 Le mani sudate sono tipiche dell'emozione, vero? Un altro piccolo incidente con i tamburi. Almeno non è volato niente in testa a nessuno stavolta. Questa corista invece è stata posseduta all'improvviso. Ognuno di noi ha un limite di sopportazione. Questo giornalista l'ha superato. Ci sono tacchi alti e tacchi vertiginosi. E questa povera modella ce l'aveva quasi fatta. Lei ha resistito un po' meno invece. Un cane grande ha bisogno di un po' meno. E' uno spazio grande in cui giocare, non di un tavolino di vetro. A proposito di spattere la testa sulla porta. Era una vacanza così romantica prima che lui le facesse prendere un colpo. Questo gatto non è in vena di fare conversazione. Qual è il tuo costeretto? Questi due invece se le suonano di santa ragione dopo essersi presi un po' di tempo. Che, le suonano di santa ragione per dare un po' di tempo. rompersi un dente fa un male cane rompersi un dente durante una diretta streaming ferisce anche nell'orgoglio stavano cenando in tutta tranquillità quando all'improvviso questo è probabilmente l'incubo di tutti peccato che a lui sia capitato davvero e nel momento peggiore che cosa ne pensate qual è la cosa peggiore che vi sia mai capitata all'improvviso fatecelo sapere nei commenti non dimenticatevi di lasciare un mi piace iscrivervi al canale e cliccate sul video sullo schermo per altri incredibili video come questo alla prossima ciao 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 ciao